Mega tutorial gratuito su Filmora, il miglior software di mezzo per quanto riguarda il video editing. Ora lo facciamo, vi mostro tutta una serie di cose, mi raccomando, se vi piacciono questi video, ne stanno per arrivare tantissimi. Software di mezzo, che cosa sono? Sono i software che non sono né basic né pro. Così, prima che mi scriviate, ah ma non è il migliore di tutti? Sì, è il migliore di tutti di quelli di mezzo, un'espressione che ho cognato tempo fa. Ci farò un video perché riguarda proprio il marketing del prodotto, così non mi scrivete, ma c'è Da Vinci? No, Da Vinci è pro. Allora, mi raccomando, nell'indice trovate qui su YouTube tutto quello che tratterò, perché ci sono anche delle cose avanzate e quindi se sapete già utilizzarlo, magari schippate, andate direttamente al punto. Faccio questo video perché me lo avete chiesto davvero in privato anche, è incredibile, questa cosa non me l'aspettavo. persone del mio settore che vogliono mettersi a fare video da quando ho iniziato a far vedere come si usa con le AI. Oggi vediamo tutto, così facciamo un tutorial per tutte le persone che mi seguono. C'è l'indice, ma partiamo da questa cosa. Partiamo, vediamo, lo mostro, dai prezzi. Perché ad oggi è così, lo sapete che cambia, no? Partiamo dai prezzi per gli individui perché poi hanno i team, studenti, insegnanti, eccetera, eccetera. Io sono stato molto, molto lungimirante perché non mi ricordo se con la versione 7, qual era la versione, mi sono comprato il Lifetime. L'ho pagato una volta, tra l'altro pochissimo, se non sbaglio, va bene, non mi ricordo, però sui 70 euro. Oggi mi ritrovo con questi piani. Ci sono piani in abbonamenti e piani perpetui. Lo voglio andare a spiegare perché magari non è chiaro. Il piano, quello trimestrale o annuale, è quello che consente di essere aggiornati sempre, cioè di scaricare sempre, in qualsiasi momento, la versione che esce. Ma qualcuno ha comprato il piano perpetuo. Il piano perpetuo è quello che consente di avere sempre gli aggiornamenti. Non ha un pagamento mensile o annuale, lo pagate una tantum, però ricevete praticamente solo gli aggiornamenti di quella versione. Ora, in questo caso, Filmora 13. Filmora 13 è uscito da pochissimo e quindi magari per qualcuno potrebbe convenire. Se volete ascoltare un fesso, se trovate un Lifetime, compratelo o compratevi l'annuale perché da quello che percepisco, questa azienda sta facendo dei passi da gigante sull'intelligenza artificiale e secondo me nel giro di sei mesi uscirà la 14. Io ho questa impressione, anche perché loro poi ci fanno una serie di, insomma, di altri business da questo punto di vista. Ma la questione che vi voglio inoltre porre è che Filmora è una macchina da guerra, non solo come software di video editing, ma ha tutto un ecosistema attorno molto importante. Quindi, prima di scendere nel dettaglio del tutorial, sappiate che con Filmora avete tutta un'altra serie di vantaggi che ci sono, con tutti gli articoli stock, che sono, per esempio, video di repertorio, che sono immagini di repertorio, eccetera, eccetera. In più, il loro modello di business, per quanto riguarda l'AI, è quello specifico di farvi usare le funzionalità di AI in modo gratuito, fino a un certo limite, a volte giornaliero, a volte mensile, e poi di farvi comprare dei crediti. Questo vale per tutte le varie versioni che ci sono da questo punto di vista. C'è inoltre, tra i servizi, un gigabyte di archiviazione in cloud. Quindi, diciamo che è molto, molto interessante questo punto di vista. A secondo dei piani avete dei crediti, avete quindi questa archiviazione in cloud, che tra un po' vi spiego anche che cosa significa, ma soprattutto, per chi invece lo vuole utilizzare gratuitamente, lo potete fare, solo che in esportazione mette la filigrana. Quando lo aprite, la prima volta dopo che avete fatto tutto quanto, vi dice nuovo progetto, con tutte le varie proporzioni che voi avete. Quindi, voi potete selezionare quello che è il vostro, in questo caso uso il 16 noni, ma potete utilizzare quello di Instagram, quello più specifico 9 sedicesimi, oppure potete aprire dei progetti locali che avete salvato, potete andare in cloud, però da qui avete l'impostazione. Lasciamo il 16 noni, faccio nuovo progetto. Mi metto qui, mi faccio piccolino, la sistemiamo. Voglio mostrarvi, prima di farvi fare un giro nell'interfaccia, ma che cosa fa quando abbiamo un progetto e andiamo ad importare un file che ha delle cose diverse da come ha impostato il progetto. Ci clicco, eccolo qua. Ovvero mi dice, guarda, tu stai andando a mettere dentro Wondershare Filmora un file multimediale che ha una conformazione diversa, ovvero non hai 1920x1080 a 25 frame per secondo, ma hai il 60. che cosa vuoi fare da questo punto di vista? Molto interessante. Io gli dico, ad esempio, no, no, voglio che adatti il mio progetto al file, quindi faccio adatta e semplicemente me lo trovo qui. Ok, la prima cosa che vi consiglio di fare, ora non lo vedete perché è un po' sopra, c'è scritto, c'è un menu, fate file, eccolo qua, salva. Vi consiglio, come prima cosa, di salvare il vostro progetto in modo che poi, progetto, possiate salvarlo sempre. Questa è una cosa importante da andare a fare. Andiamo a farci un giro sull'interfaccia perché qui abbiamo delle zone. Abbiamo questa zona del progetto multimediale, abbiamo quest'altro menu, abbiamo la nostra timeline, abbiamo l'anteprima, abbiamo delle iconcine qua e abbiamo in alto a destra. Vediamole tutte così ci facciamo prima un giro. la lezione 0 sull'interfaccia, per chi non l'ha mai visto, che cosa potete fare. Partiamo in alto a destra. In alto a destra abbiamo la possibilità di cambiare il layout di Filmora, vi consiglio di lasciare il classico, altrimenti poi questo tutorial, che ve lo guardate a fare, non scherzo, però insomma potete andare a fare una serie di cose. Qui avete il salva, qui avete la possibilità invece del centro trasferimento, di vedere tutto quello che avete sul cloud e cosa potete mandare. Avete le notifiche, scusate, gli strumenti con anche il centro notifica, con tutte le cose che potete voi avere, come le scorciatoie di tastiera, il centro messaggi e i miei effetti, perché si possono comprare o anche scaricare gratuitamente, perché molti sono inclusi, non solo, come vi dicevo prima, i video, le immagini, ma anche gli effetti. Poi avete il vostro account, eccolo qua, in questo caso lo possiamo vedere, avete tutta una serie di cose su che cosa attualmente avete incluso, le vostre notifiche, la parte speciale, eccetera, eccetera, e poi abbiamo l'esporta, che è l'ultima cosa che andremo a vedere oggi. Questa è la barra invece in alto a destra. Inoltre abbiamo il lettore qua, dove c'è la possibilità di scegliere che tipo di qualità mostrare in preview, quindi andare ad abbassare la qualità, per esempio della preview, andiamo a vederlo, vedete che è bassa a volte la qualità, o farla ad esempio completa, poi dipende che cosa dovete fare. Questo è molto importante perché se avete un PC che non è molto potente, magari abbassandolo vi aiuta, avete l'istogramma qui, con tutta la varia portata, l'esposizione, eccetera, eccetera, che non vi interessa tantissimo, e poi nel lettore avete una serie di opzioni molto interessanti, andiamo a vedere quelle che sono le principali che vi possono aiutare. Innanzitutto avete l'espandi, quindi potete man mano che state tagliando andare a, per esempio, metterlo a tutto schermo, così vedete quello che avete fatto. Poi avete la possibilità di cambiare una serie di aspetti e avete la possibilità molto interessante di questa, che è l'istantanea, quindi io la uso per le miniature a volte, carico, faccio un video dedicato solo alle miniature con tutte le facce incredibili, lo carico qua, mi seleziono quello che devo fare e mi faccio l'istantanea, che è l'immagine appunto. Dopodiché avete la possibilità di andare avanti, di andare indietro, di fare il play e di fare lo stop, ma la cosa più interessante di tutto il lettore, che userete spesso, è questa qui, l'andamento del video. Come potete vedere, l'andamento del video sposta quella che è in basso a destra, anche la nostra freccettina, la nostra barra rossa, barra rossa-arancione con la possibilità delle forbici di tagliare, questo è molto molto interessante, quindi il lettore sposta avanti. Dopodiché abbiamo, prima di arrivare alla timeline, che è la cosa più interessante sicuramente, abbiamo tutta la parte a sinistra. La parte a sinistra abbiamo di che tipo di progetto oggi stiamo importando, abbiamo dei link con il supporto globale, le clip, lo spazio su cloud, con i miei contenuti che posso caricare e i miei contenuti che ho scaricato. A cosa mi serve lo spazio sul cloud? In questo caso è molto molto interessante perché io da qui posso andare a caricare dei formati, delle immagini, qualsiasi altra cosa, che poi vado ad utilizzare, diciamo, in modo più specifico quando so che ho da utilizzarli spesso. Quindi ad esempio, se devo usare il logo di YouTube Shorts in molti video, lo metto sul cloud così non devo caricarlo ogni volta nella mia timeline, ce l'ho subito qua a disposizione. Oppure lo schermo verde per gli iscriviti. Poi queste cose le vediamo tutte nel dettaglio durante il video di oggi. Quindi mi serve per fare questa cosa qui. Poi ho tutta un'altra serie di cose sui preset che posso andare a salvarmi così ogni volta non devo fare che carico un video, devo fare di tutto. E poi ho la possibilità, ora vi dico di non accedere, di accedere alle foto. Qui ho lo stock media, molto utile, con tutta la libreria, con quelli di tendenza attualmente. Quando vedete questa iconcina del diamond, del diamante, servono dei crediti per comprarlo. I crediti di solito, alcuni abbonamenti ne hanno inclusi poi al mese. Invece da qui lo potete prima andare a scaricare e poi inserire sulla clip. Ora non vado a farlo, però ve lo mostro a breve. Tinta unita, colore sfumato, e poi oltre questa roba qui della libreria di Filmora ci sono i partner. E questa è una cosa essenziale dell'ecosistema di Filmora perché a tutti i partner, a Giphy, a Pixabay, a Splash, potete cercare qualsiasi tipologia di video, di immagini, eccetera, eccetera, qua dentro da poi andare a utilizzare. Questo è molto, molto interessante. A cosa serve invece l'elenco personale? È che se voi a un certo punto dite, ah cavolo, questo supporto di sfondo interessante, me lo scarico, qui me lo riproduce, me lo salvo tra i preferiti, in elenco personale preferiti mi compare quello che è il mio particolare cosa che ho salvato. Andiamo a scaricarli e a mettere nei preferiti, così ne vediamo più di uno. Che cos'è che dice quando ne hai troppi usa i tag? Quindi in questo caso vedete mi dice se è gratuito o no, io ho la possibilità in questo caso qua col tasto destro di aggiungere un tag particolare. quindi posso creare un nuovo tag quindi facciamo un esempio sfondo bello facciamo non è cosa bellissima qui in alto mi compaiono poi tutti quelli taggati guardate quanto è interessante per chi fa tanto video editing già capite che è un software molto molto interessante lo chiamo di mezzo perché non è non è pro perché i pro sono molto avanzati questo è come se prendono le versioni pro e le semplificano e ci danno la possibilità poi con delle cose un po' più avanzate di andare a settare queste cose molto utile questo dei preferiti cosa accade se applico uno sfondo ora lo vediamo così è una clip normale oppure la posso tagliare e metterla tra due clip ad esempio lo vediamo da questo punto di vista questi sono mi raccomando stock media ok stock media posso anche fare questo tipo di gioco mettere la mia clip sopra lo sfondo media per cosa la potrei fare tra un po' lo vediamo non ve lo mostro lo torniamo indietro così lo chiariamo dopodiché ho gli audio anche qui la stessa cosa di prima ho tutta la musica diciamo dell'elenco personale con i preferiti quindi posso avere i miei preferiti se voglio posso avere i download le mie musiche posso avere vari tipi di pacchetti ho gli effetti sonori già di default di film ora molto interessante ho la musica che posso andare a trovare sempre dentro film ora alcune sono a pagamento alcune sono gratuite le posso mettere sui preferiti e poi questo qui super vantaggioso la musica con l'intelligenza artificiale quindi la posso andare a generare la musica con l'intelligenza artificiale per ora è solo un giro nell'interfaccia quindi non entriamo nel dettaglio di come si usa non ci entriamo dopo poi abbiamo il testo stesso ragionamento abbiamo tutti i vari testi che noi possiamo andare ad utilizzare da questo punto di vista ok torniamo un attimo indietro con anche qui l'elenco personalizzato di tutti i test che noi vogliamo torno indietro in questa cosa qui ok quindi abbiamo i preferiti che io metto nei preferiti lo trascino e mi compare in questa posizione quante ci sono di tipologie di testi tantissimi nei titoli abbiamo il terzo inferiore per esempio facciamo questo esempio che lo metto qua mi compare qui in questo modo con le animazioni filmora è pazzesco perché nella sua semplicità ha delle animazioni comunque molto molto professionali questo mi aiuta ma poi ho l'end credit quindi lo mettiamo qui guardate me lo carica nei contenuti con tutto il cast mi compare e posso facilmente editarlo facendo doppio clic qua dentro mi ritrovo sulla sinistra vedete la possibilità di editarlo ora faccio ok va bene abbiamo il 3d i sottotitoli che si può andare a creare social media i testi per i social media insomma abbiamo veramente di tutto da questo punto di vista guardate quante cose che posso andare a fare con filmora in modo molto molto facile guardate qui con l'animazione eccolo qui social media è un video che ho già pubblicato questo clicco cambio il testo e gli dico fast forward per esempio facciamo questo esempio fast forward eccolo là me l'ha messo sotto ok ah scusate sotto sbagliato fast forward eccolo lì guardate che bello cioè è veramente poi lo sposto faccio tutto quello poi lo vediamo ora vi faccio vedere solo l'interfaccia ho la possibilità di usare le transizioni con qua sempre qui è lo stesso comportamento di filmora ovvero mi dà tutta una serie di robe che sono archiviate correttamente per categoria mi dà la possibilità di andare a vedere tutto quello che che io trovo che faccio eccetera eccetera e io poi lo posso applicare a cosa serve una transizione la applico in questo modo poi ve le faccio vedere mi fa questo tipo di transizione ve le sto facendo vedere velocemente poi entriamo nel dettaglio di ognuna ok ci sono anche quelle audio così abbiamo una transizione audio sull'audio di per sé della nostra clip poi abbiamo gli effetti taglio un attimo una clip che mi viene più facile abbiamo gli effetti e queste abbiamo le tendenze in alto che possiamo andare ad applicare sulla clip quindi qui abbiamo le tendenze di compleanno o moonrise ora metto questa guardate cosa accade stai utilizzando un effetto a pagamento no non voglio un effetto a pagamento usiamo un altro giusto per farvelo vedere eccolo qua mi applica l'effetto sulla clip guardate molto interessante in questo caso abbiamo fatto il film set vi mostro il vintage poi su questo ci entriamo nel dettaglio come vi dicevo prima eccolo lì ok togliamo questo effetto che non lo voglio ma abbiamo tanti altri tipologie di effetti abbiamo gli effetti video ad esempio che mi va in questo caso a fare il miglioramento automatico secondo lui eccolo qua ok oppure abbiamo torniamo indietro per la clip che la voglio normale che ha mantenuto l'effetto eccolo là abbiamo il mosaico che possiamo poi prendere e spostare se non ci piace qualcosa diciamo ah quella faccia quel pezzo lì di codice io non lo voglio non voglio che si veda ok i filtri retro l'overlay per esempio andiamo a vedere l'overlay ok poi abbiamo gli adesivi stesso comportamento a pagamento gratuiti e dopodiché li possiamo salvare tutorial guardate questo che cos'è in questo caso guardate ok l'elemento di filmora è molto interessante perché filmora a differenza di altri software quelli base ho la possibilità di rascinare gli elementi dove voglio non tutti i software di base lo consentono per questo per me è un software di mezzo ok va bene poi abbiamo i modelli molto molto utile i modelli di video quindi io posso caricare un modello di video che mi può servire per esempio dopo che l'ho scaricato per fare ok andiamo a metterlo ora qui ho capito togliamo questo togliamo questo ok taglia taglia e lo chiamo lo chiamo qua ok vedete ho modelli già che poi questi modelli si possono modificare tutti cioè una volta che voi avete selezionato il modello questa frase queste cose le potete modificare perché qui vedete modifica avete la possibilità di farlo e infine schermo diviso molto interessante ho la possibilità di tanti preset per lo schermo diviso dove sostanzialmente posso andare a mettere i file che voglio selezionando file 1 e file 2 ok ci siamo su questa parte ora è arrivato il momento di giocare con la timeline capire questa timeline come funziona perché è molto importante quali sono le opzioni più importanti che ci sono innanzitutto lo zoom questo zoom io posso prendere tutta la mia clip che dura in questo caso 17 minuti che è il video che è già uscito e posso andare a zoomare la clip all'infinito guardate se parto il via quanto la viviseziona incredibile incredibile 3 secondi guardate quanti passi ha questo vuol dire che può essere molto molto preciso e da qui guardate l'intersezione che ho della clip con la mia possibilità di spostare questa per fare un taglio spostare quella che viene la barretta insomma guardate ok zoomiamo correttamente in un modo che sia capibile la faccenda quindi abbiamo la possibilità di spostarci con questa la possibilità dello zoom e la possibilità di andare avanti indietro anche con il lettore praticamente qua ok lo zoom lo potete andare a decidere non solo da qui ma anche dal righello eccolo qua da questo che abbiamo la possibilità di vedere lo vedete il righello ok una cosa molto interessante è che la timeline che voi vedete qua con tutti gli oggetti in questo caso ne vedete 5 perché ho caricato elementi c'ha l'audio eccetera eccetera tutte queste cose possono essere nascoste bloccate da quello che è il programma proprio come se fossero i livelli di photoshop o di altri software di questo tipo sono proprio dei livelli ora la cosa che possiamo fare con questa clip per farvi vedere un po' di altre funzionalità di questa parte della timeline posso scollegare l'audio ora lo facciamo un attimo solo per farvi vedere l'audio come si comporta eccetera eccetera però sappiate che cliccando con il tasto destro sulla clip voi avete una marea di opzioni le vediamo sono tantissime sono veramente tantissime le opzioni che voi potete andare a realizzare qui potete tagliarlo potete fare un sacco di cose ora in questo caso particolare andiamo a fare l'audio scollega audio scollegando l'audio mi ha scollegato l'audio della clip vi volevo mostrare questa cosa ovvero la possibilità di alzare o abbassare ogni singolo elemento nella nostra timeline vedete questo è molto interessante perché nel caso ad esempio dell'audio tra un po' torno indietro che non ci serve scollegato nel caso dell'audio se devo fare un taglio e ce l'ho molto molto piccolo a parte che scompare ma non ho la precisione se invece lo alzo ho una precisione veramente molto molto elevata quindi questo posso farlo posso avere quanti elementi voglio dentro la nostra timeline ok riendiamo qui allora quali sono le opzioni che ho a disposizione sulla clip e piano piano arriveremo a quello che è il montaggio allora le opzioni che ho su questa timeline sono veramente tante perché io ho la possibilità per esempio da qui di andare a regolare quelle che sono le voci e se una voce ad esempio mi piace perché ho la volontà mi serve per fare qualcosa o non mi piace la posso andare a togliere quindi questa qua non la uso me la riporto qua e viene eliminata questa qua non la uso me la riporto qua e non viene portata lì vedete quindi posso personalizzare questa timeline rimettiamo il text to speech poi lo andiamo a vedere da questo punto di vista quindi ho la possibilità di personalizzarla ma la possibilità che alcune di queste hanno sostanzialmente più opzioni quando vedete l'etichetta con una una piccola farcetta in basso qui voi avete la possibilità di selezionare le opzioni in modo differente vi faccio un esempio se io lascio così il seleziona in questo caso mi funziona proprio da selettore qua dentro ma se io mi trasformo in modalità di divisione rapida questo che voi vedete mi consente di tagliare rapidamente quindi guardate vado qui taglia 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 molto molto utile questa roba allora torniamo indietro e questo vale con le altre quindi per esempio andiamo a prendere una clip perché con questa praticamente testina io posso andare a tagliare ok e poi quindi ho tante opzioni da qui posso andare e tornare indietro a fare il ctrl x ad esempio qui posso andare avanti ora posso tagliare direttamente in timeline posso usare il ritaglio della clip che tra un po' lo vediamo ma ve lo faccio dopo posso aggiungere un testo posso fare la velocità quindi posso aggiungere velocità rapidamente alla mia clip farà più veloce più lente il testo il testo rapido ad esempio per inserire un testo qua dentro lo mettiamo sopra test here lo vedete lo posso allargare posso fare una serie di cose quindi ho la possibilità qui attraverso questa di andare a modificare tante cose posso andare in questo caso ad avere un miglioramento del colore così ho tutti i preset già impostati insomma da questa timeline posso fare una serie di robe che tra un po' andiamo a vedere l'ultima cosa prima di entrare nel montaggio vero e proprio sappiate che con Filmora avete la possibilità di usare le scorciatoie da tastiera quindi clicchiamo qua in alto a destra scorciatoie da tastiera ve le potete anche impostare quelle che vi piacciono così potete utilizzare la vostra tastiera ma veniamo alle opzioni più interessanti di montaggio video quindi la possibilità del taglia la possibilità dello zoom sulla clip possibilità di UX tutto quello che abbiamo qui da poter fare in montaggio video innanzitutto la cosa che a me ha fatto impazzire che mi ha fatto tornare a fare video è il ritaglio diciamo il tagliare il silenzio ovvero il montaggio automatico in questo caso il video è un vlog non mi serve però ve lo faccio vedere su un'altra clip cancello questa portiamo una clip e la manteniamo in 9 sedicesimi non importa ok eccola qui vedete quanto spazio ho allora clicco col destro vado in basso ho davvero tante cose ho lo strumento di modifica smart potrei impostarlo come magari qualcosa di più veloce da fare però mi dice come lo vuoi andare a editare lo vuoi editare basato sull'audio per rimuovere quello che è il silenzio oppure vuoi fare su testo cioè mi trasforma il video in testo e in base a quello che dico cancello non mi piace questa non mi serve ad ora lo faccio sul silenzio quindi faccio ok ho la possibilità qua a destra e poi avete sempre le guide che vi dicono dove andare cosa fare cosa non fare eccetera eccetera ho la possibilità di vedere in preview che cosa accade con i livelli di volumi io lo lascio di default gli faccio un ricomincia così me lo taglia e io qui vedo che cos'è che mi sta tagliando lo vedo in basso è una clip che dura in questo caso 3 minuti e 54 per la registrazione gli posso dire la durata il buffer tutto quello che vogliamo poi faccio termina e sostituisci e mi è passato a 1,53 quindi mi ha fatto già i tagli automatici questa è una cosa bellissima che uso veramente veramente tanto ma torniamo alla clip di prima per mostrarvi tutto il montaggio che si può fare con filmora e andiamo a vedere che cos'è che fa sulla singola clip quindi taglio innanzitutto ha una roba molto interessante di UX anzi ne ha più di una ve le voglio mostrare se io decido di tagliare per esempio qui e poi tagliare qui io in questo caso uso le scorciatoie di tastiera voglio mostrarvi che cosa faccio che cos'è che ha di bello io uso il command b per tagliare lui taglia se poi io vado qui e faccio taglia ok mi rimane selezionata la clip e la cancello al volo questa è una cosa molto molto veloce è molto interessante per chi fa appunto per chi vuole editare un video velocemente e poi la clip mi rimane se faccio che ah dico no dovevo farla più lunga lui con ve lo mostro allargandolo vedete qui c'è un pezzetto di voce proviamo ad allargare ancora ecco cosa serve tutte queste opzioni io posso tagliare questa qua faccio così e me la reincolla questo è molto molto utile o se l'allungo non mi perde la parte iniziale questo è interessante l'altra cosa interessante sulla UX è che se io voglio fare delle modifiche ad una singola clip quindi immaginiamo di aver fatto questa roba qui ora provo a togliergli un attimo tanto cancello che non mi serve e lo faccio silenzioso allora vi faccio questo esempio che è molto interessante allora immaginiamo di aver fatto questo video e di voler qui fare uno zoom e qui fare un altro zoom no quindi dire ok come si fa lo zoom per fare che cosa per fare quell'effetto molto interessante diciamo di taglio quindi io in questo caso seleziono la clip vado su video in alto ho la possibilità di scalare la clip quindi posso fare così vedete o posso fare appunto lo zoom in questo caso il 126% ok quindi che cosa accade faccio ok io vado qui eccolo qua avete visto questo taglio che si usa abbastanza spesso poi devo andare di nuovo qui e rifare lo stesso taglio no la cosa molto interessante che vi consiglio di fare prima vi tagliate tutto con le AI lo sistemate poi siccome quando voi siete qua dentro il sistema rimane sempre qua vedete che succede che io vado subito all'altra clip non ho bisogno di fare ritaglia di nuovo eccetera eccetera vi salvate il 126 e 80 che vi piace andate qua nella clip e poi ve lo incollate tutte le clip che volete ve le incollate questa è un'opzione molto molto utile rimanendo lì per fare degli zoom velocissimi senza che state impazzire ogni volta per ogni singola clip ok torniamo indietro e vediamo tutte quelle che sono le opzioni effettivamente di movimento di una clip allora tagliamo è sempre meglio tagliare con la tastiera io faccio il doppio click che sono su video che cos'è che faccio solitamente ora vi mostro tutto quello che potete toccare ma la prima cosa che io faccio è il miglioramento automatico così mi migliora subito tutta la clip questo va fatto prima che la tagliate ovviamente ho la possibilità di scegliere la quantità di miglioramento che voglio ma in sostanza le cose che si possono fare sono tante sulla singola clip ho la possibilità come abbiamo visto di scalarla ho la possibilità di spostarla da qui o posso semplicemente spostarla io con il mio mouse ho la possibilità di ruotarla la clip guardate quante cose che posso fare la posso invertire ho le varie opzioni di fusione eccetera eccetera ho l'opzione di sfondo che tipo di sfondo voglio avere quindi veramente molto interessante ho l'ombra esterna ora la ripristino poi ho la possibilità di applicare una maschera quindi per esempio una maschera di questo tipo cuoricino ad esempio ho la possibilità ripristiniamo di utilizzare gli strumenti di intelligenza artificiale come la chiave cromatica e tutta un'altra serie di cose che tra un po' vi mostro ho la possibilità di animarla quindi di fare una singola clip vediamo che cosa accade in movimento guardate ok ho usato la dissolvenza sull'animazione posso regolare da qui quanto deve durare la dissolvenza quindi ok quando deve iniziare e quando deve finire la dissolvenza faccio sempre ripristina e ho tutte le animazioni un po' più complesse ok ne prendiamo una che ci fa capire che cos'è che posso fare con l'animazione ok vedete che cosa fa ora l'ho messa sulla clip va e viene non sono delle transizioni ma sono proprio delle animazioni sulla clip poi ho la possibilità di migliorare l'audio quindi di andare a fare sull'audio a tutti i preset per questo non mi piace Filmora perché è un software che si maschera da professionale non lo è è un software di mezzo dove ci hanno messo le opzioni più importanti molto molto veloci ho la possibilità di usare il colore quindi di andare a utilizzare tutta una serie di cose sul colore anche già preimpostate di selezionarlo con tutti i preset vedete le vignette è davvero incredibile e ho la possibilità di regolare la velocità ma la cosa che più viene utilizzata è questa opzione qua del ritaglia perché il ritaglia con la possibilità di selezionare il ritaglio alla clip quindi si di effettuare a tutti gli effetti uno zoom anche se io vi consiglio di fare uno zoom come vi ho mostrato in questo caso particolare del taglio abbiamo la possibilità di rimanere un rapporto originale o un rapporto personalizzato di taglio in modo da tagliare precisamente una parte di video e basta faccio applica lo vediamo come viene ritagliato inoltre l'altra cosa che si può fare sempre sul ritaglio è avere la panoramica con lo zoom con un inizio della clip questo è molto utile quando dovete andare a sottolineare qualcosa in una pagina internet ad esempio in questo caso fa gli faccio fare uno zoom anche qui questo è un movimento che si può fare in montaggio ed è utilizzato sia sulle persone solitamente che sulle pagine internet quando dovete evidenziare qualcosa faccio il ripristina di questa roba qui ok e poi l'altra roba super interessante sono i fotogrammi chiave il fotogramma chiave molto utile che è il keyframe mi consente di dire alla clip che ha un movimento in un modo e poi ha un altro movimento in un altro quindi in questo caso togliamo lo zoom perché sennò non si capisce per bene ok facciamo solo il ritaglia applichiamo la clip vedete è ferma ok ora che cos'è che voglio fare io voglio avere un fotogramma qui però poi voglio che la clip quando arriva qui quindi aggiungo un fotogramma lui si sposta quindi si sposta a sinistra lo sposto a sinistra guardate cosa accade lui si fa tutta la clip poi si sposta a questo servono i fotogrammi chiave può essere interessante per tante cose vi faccio degli esempi concreti sul montaggio di questa cosa dello zoom eccetera eccetera così vi rendete conto delle potenzialità che ci sono su filmora torniamo indietro ok allora andiamo a vedere che cosa posso fare la prima cosa che posso fare ad esempio vado a utilizzare strumenti di AI la chiave cromatica la chiave cromatica sulla mia clip la posso andare a selezionare da qui cioè posso dirgli non lo schermo verde ma lo schermo che io ho attualmente ovviamente posso andare a usare la compensazione posso andare a usare la tolleranza vedete per andare a verificare di prenderla tutta posso andare a usare lo spessore del bordo se voglio renderlo guarda che bello che ha un suo un suo bordo mettiamo un bordo di questo tipo ora l'ho fatto così no che cos'è che mi manca lo sfondo posso aggiungere lo sfondo in questo caso io ce l'ho nel mio cloud già scaricato lo sfondo pattern o lo sfondo normale che è una clip di un video me la metto qua sfondo normale lo metto proprio come sfondo quindi per allungare uno sfondo che è video devo regolare quella che è la sua velocità quindi lo seleziono col doppio clic vado su velocità e lo faccio un po' più lungo ok si allunga ora da qui lo posso regolare gli dico che deve stare sotto lui che è la cosa principale e mentre il video che ho tagliato col chroma key invece no ora che cos'è che ha che ho avuto come effetto il chroma key non è chiarissimo è chiarissimo perché ho messo un bordo ma potrei non mettere il bordo anzi facciamolo così non ve ne è ancora meglio video strumenti di ai spessore del bordo nessuno non importa si si nota la differenza ma non tantissima che cos'è che posso fare da questo punto di vista posso prendere lui che sono sempre io gli posso aggiungere un fotogramma chiave qua all'inizio un altro fotogramma chiave seleziono me li sposto all'inizio e gli dico poi al secondo fotogramma chiave spostati tutto a sinistra lui ci sposta guardate cosa qual è l'effetto che ottengo gli tolgo l'audio che lo metto in silenzioso si è spostato a quel punto gli posso aggiungere il testo quindi gli dico mettimelo sempre sopra gli metto un testo quindi gli dico lui si sposta qua e gli dico ciao strumento 1 guardate strumento 1 il mio font preferito il Bebas bold posso allargare quanto voglio lo piazzo qua ogni elemento nella timeline tra l'altro ha la sua faccio ok quando clicco quando vado su video ogni elemento nella timeline ha la sua posizione precisa quindi se io voglio un altro elemento me lo copio copio questa clip me la incollo la metto qui di nuovo sopra gli dico che deve durare della stessa durata lo faccio comparire dopo poi faccio doppio clic la posizione me la scelgo io in modo che sia precisa doppio clic ancora per andare sul testo invece che sul video dico strumento 2 l'effetto che ottengo è questo ok la cosa interessante di avere uno schermo verde e di avere il mio sfondo in questo modo è che se voglio la metto all'inizio visibile sempre il mio video lo allargo guardate cosa accade ora è sopra di me ok ma io posso dirgli di stare sotto di me quindi dietro di me guardate che bello è però sopra lo sfondo quindi ho questo tipo di opzione ok ora spostiamo la facciamo qua facciamo questo effetto guardate cosa ho ottenuto molto interessante con poco poco sforzo davvero questa è una cosa che poi posso replicare facilmente ho questa roba per cosa uso ancora questi movimenti li uso perché mi piace tanto andare a mettere un ending finale guardate che cosa faccio con l'ending finale allora innanzitutto andiamo alla fine del nostro video sappiamo che su youtube ci sono i 20 secondi finali che posso andare a sfruttare da qui vado alla fine mi porto sui 20 secondi finali quindi se è 55 vado sui 35 lo posso anche addirittura qui scrivere è molto molto interessante taglio questa è la mia clip ora che cos'è che vado a fare vado a inserire ve lo prendo allarghiamo prima così è più chiaro vado a inserire la parte finale eccolo qua la metto su così ci rendiamo conto ok va bene ho una parte finale a questo punto però il mio video la sta coprendo tutta quindi posso fare così rimpicciorirlo rimpicciorirlo no e metterla lì ma a me questa cosa non piace quindi prendo l'inizio gli applico un fotogramma chiave ne ne applico un altro e solo qui a questo punto io faccio questa roba qui la rendo piccola una volta che ho imparato le dimensioni le incollo direttamente qua dentro non ho bisogno di farlo per forza così facciamo finta che vada bene e ottengo questo effetto lo posso fare più veloce andando a spostare il fotogramma chiave più vicino vedete dopodiché io piazzo la musica finale e qui entriamo nel mondo anche dell'intelligenza artificiale eccolo qua poi vi faccio la parte sulla i a questo punto ok se la musica a me non piace che è troppo la bass ovviamente è troppo corta è troppo piccola quello che vogliamo con l'audio stretch che è qua lo seleziono me la faccio così e lui con l'intelligenza artificiale me la genera sostanzialmente quindi insomma abbiamo capito in fase di montaggio le clip non le clip tutte le cose che possiamo fare mi raccomando la cosa importante qualsiasi elemento che voi abbiate in timeline in alto qui a sinistra avete la possibilità di fare tutta una serie di cose dal vostro menu quindi avete sul testo e sulle dimensioni se invece è un video avete video audio colore eccetera eccetera con tutte davvero delle robe che potete cambiare rapidamente e con tutti i preset che Filmora ha insomma avete veramente veramente di tutto ma ora è arrivato il momento che parliamo dell'intelligenza artificiale che cosa può fare Filmora per noi può fare veramente veramente tanto andiamo a vederlo con una clip ok allora quando ho la clip io posso iniziare a fare una serie di cose con l'intelligenza artificiale dov'è che Filmora ce la fa usare innanzitutto c'è il copilot qua qui questa iconcina qui io posso andare a fare delle domande e ho restante vedete mi dice 50 50 cosa giornaliero ogni giorno posso andare a fargli 50 domande ad esempio vediamo che cos'è che è in grado di fare andiamo sulla luminosità che è una delle robe che può fare gli chiedo mi puoi alzare la luminosità ok mi dice di che cosa fare con leggi altro ho la possibilità di andare nella guida ufficiale di Filmora poi posso dirgli che va bene o che non va bene e quindi posso andare a fare tutta una serie di cose vediamo se gli dico aiutami a creare un bellissimo paesaggio puoi utilizzare i images quindi mi risponde su quello che posso andare a fare voglio rimuovere tutti i segmenti senza audio insomma è uno strumento che ad ora ci dà la possibilità di fare delle domande e di imparare velocemente a utilizzare il software la cosa veramente veramente utile che dal mio punto di vista per questo parlavo prima di Filmora 14 sarà proprio sull'intelligenza artificiale andandola proprio a integrare facilmente qua dentro perché quello che ad oggi manca all'AI tra un po' vediamo tutte le altre funzioni che sono pazzesche è quello di riuscire ad esempio a imparare come io edito a imparare non solo a rimuovere ok tutto quello che è il non sonoro quindi il silenzio ma andare a fare anche ad esempio gli zoom che faccio quindi andare ad aiutarmi e qui mettermi direttamente tutta una serie di opzioni in inglese credo che sia ancora un po' più avanti dov'è che vedo l'AI oltre nel copilot per chiedere le cose in tante tante robe allora le funzioni sono andiamo ad aggiungere qua che ne mancano come abbiamo detto da qui posso aggiungere quello che sta mancando in questo momento quindi lo speech to text andiamo a metterlo qua però la prima cosa che vi mostro è il rilevamento del silenzio abbiamo detto quello basato sull'audio quando c'è il silenzio mi elimina la clip e mi è utile purtroppo non c'è l'italiano andiamo però a provare a fare con l'inglese qualcosa per vedere come funziona a breve arriveranno tutte le lingue cioè per questo dicevo prima filmore 14 arriverà secondo me entro sei mesi tutte queste cose qua io non comprerei il piano perpetuo ora vediamo come funziona questo tipo di editing eccolo qua io posso andare vedete a parte che mi dice immetti il contenuto della ricerca ciao e quindi lo trovo vediamo se dico policy vedete cosa succede posso andare a fare una ricerca tra le parole che ho immaginato un video lunghissimo devo intercettare quella cosa da cancellare lo vediamo qua e posso fare elimina e mi ha eliminato la clip video quindi non volevo non voglio usare better care elimina ok dante elimina e mi elimina in questo caso non me lo sta facendo perché perché fa parte di un taglio put top ok questo dovrebbe funzionare vediamo no non lo elimina così però da qui ecco sì lo posso fare quindi posso eliminare a parole quindi tutto quello che ho diciamo da questo punto di vista posso cavolo andare a eliminare le singole parole faccio esporto nella timeline ecco qua me l'ha esportato ora torno indietro che non lo voglio perché questa è una delle opzioni vediamo le altre opzioni c'è questa che è lo speech to text quindi posso andare ad esempio a trascrivere lingua dall'area da trascrivere mi dice seleziona la clip l'intera sequenza quella che voglio e capire se posso generare un testo o i sottotitoli da poi andare a modificare e mettere da qualche altra parte quanto consumo secondo lui 8 di 2684 che io ho col più posso andare a comprarli posso andare a comprare quelli che sono i crediti ma in questo caso a me sono sufficienti faccio ok generameli il testo e vai a generarmi questo testo lui parte con l'italiano quindi lo speech to text andiamo a vedere che cos'è che mi va a fare eccolo là completato va bene ci ha messo un po' e qui ho tutti i sottotitoli ok se salta qualcosa se hai sbagliato doppio click ricordiamoci di andare sul testo posso andare a fare questo tipo di lavoro posso selezionare così poi i singoli testi per andare a decidere quello che può essere un uso comune per esempio 44 vedete tutti insieme cioè se io seleziono tutto quello che lui mi è andato a creare faccio il doppio click su uno seleziono scusate perché non l'ha fatto seleziono ok ora che vado qui ok sono qua nel pannello testo ok doppio click lo vediamo l'ha fatto mi dice 23 elementi selezionati quindi sto applicando le modifiche sui 23 elementi non le voglio così le voglio bianco in questo modo non mi piace voglio il bebas bold bebas bold voglio fare questa roba tra le altre cose posso dirgli il recente il preferito una serie di cose me la modificate tutte ok poi posso andare singolarmente a modificarlo questo è molto molto utile andiamo a utilizzare l'altro andiamo a utilizzare l'altra opzione che ho a disposizione quindi l'intera sequenza in italiano il testo ok andiamo a usare ora l'altra opzione il text to speech che si ottiene da quest'altra voce seleziono il testo perché lo posso fare solo col testo quindi in questo caso vediamo che tante persone vediamo sta roba lo metto qua me lo sposto che non c'è nessun audio non c'è nessun audio lo metto qua faccio text to speech anche qui ho dei crediti contenuto stimato poco il nome della voce Wondershare la creatività semplificata questo è Diego Wondershare creatività semplificata vedete questo è Dave italiano gli dico della velocità il tono come lo voglio eccetera eccetera audio matching faccio ok mi sta caricando il praticamente l'audio vediamo che cosa fa ok trascrizione in corso download completato download abbiamo detto completato dov'è che si trova nella traccia audio in basso ora io qui devo pulire la timeline perché ho troppe robe elimina tracce vuote così abbiamo eliminato tutto ed eccolo qua che tante persone ok posso fare così oppure posso semplicemente rifarlo e dirgli di andare più lento ok posso dirgli un tono un po' più basso sempre con la anzi facciamo con Diego wondershare la creatività semplificata vedete che anche l'anteprima è in base a quello che faccio wondershare la creatività semplificata non importa facciamo ok caricamento in corso guardate che cosa fa è veramente veramente utile questa cosa download me lo piazza subito sotto me lo ritrovo di nuovo nei file ovviamente lì del progetto multimediale l'ho alzata come audio voglio spostarlo ok avete visto la differenza che c'è tra i due anche qui siamo agli inizi la cosa interessante è che un giorno Filmora campionerà direttamente la nostra voce tutto quello che con le AI non stiamo riuscendo a fare non è solo perché stanno cercando di evolvere il lato diciamo applicativo ma perché anche il software scusate anche l'hardware nel momento in cui avremo i nostri computer super potenti pensati per le AI e già stanno uscendo da Intel con la parte hardware Microsoft software eccetera eccetera queste cose saranno più veloci e più integrate anche direttamente nei nostri software avrò la possibilità di fare video direttamente io campionando non solo la mia voce ma anche il mio volto direttamente sul mio pc cosa che oggi fanno servizi come ad esempio HeyGen ma l'applicazione delle AI non finisce qua non ho solo il copilot che mi aiuta a fare le cose il text to speech lo speech to text il taglio intelligente ma ho anche la generazione di immagini e anche di audio andiamo a vedere sulle immagini progetto multimediale immagine AI immagine AI in beta mi dà la possibilità di generare anche qui delle immagini proviamolo subito 16 noni consumo stimato 10 su 2000 ne ho di cose allora andiamo a creargli un prompt allora mi serve in stile futuristico gli dico in stile glielo ripeto in stile futuristico una home page di google da desktop con la ricerca grande vediamo che succede inizia a creare 10 crediti in questo caso andiamo in coda Filmora è il software sicuramente che sta facendo meglio da questo punto di vista ok mi ha mostrato questo o non ha capito quello che volevo non sono stato bravo allora gli posso chiedere di google.com in questo caso la home è una casa quindi gli scrivo una un stile futuristico la pagina principale di google.com vediamo a vedere che cosa fa bisogna essere molto specifici perché ovviamente quando metti delle parole inglese italiano non è così facile né per Filmora né per altri bisogna stare molto attenti in quel caso home page home ha un po' confuso il sistema ma anche qui non riesco a creare un tubo allora proviamo a togliere meno parole vediamo che succede niente non ce la fa vabbè non importa al di là di tutto era solo per farvelo vedere c'ho il download e ho subito qui nei media questa roba qui dopodiché ho anche la possibilità della generazione della musica quindi posso andare a comporre la musica gli posso definire per esempio una musica calma generami un brano consumo stumato inizio ovviamente sulla generazione delle immagini abbiamo mid journey o da lì o stable diffusion che funzionano molto bene firefly di adobe insomma tanta roba e qui abbiamo la musica ok posso usarla in questo caso è generata con le AI è generata direttamente da Filmora e me la ritrovo vado a fare me la sta generando ok la aggiungo col più scusate eccolo qua e me la ritrovo qua poi in generata musica è generata me la ritrovo sempre qua da questo punto di vista ok andiamo a fare un'altra cosa una delle ultime con l'intelligenza artificiale che posso andare a fare cancelliamo tutto quello che ho creato finora così ce l'abbiamo qua ok rizzoomiamo la nostra timeline non finisce qua sulle AI abbiamo la possibilità di rimuovere vocale AI quindi in questo caso mi dice di fare questo tipo di strumento non fa niente che cos'è che fa va a dividere quelle che sono le varie voci che ci sono in una traccia audio o le varie tipologie di strumenti o quello che tenta di individuare così le possiamo rimuovere vediamo quello che fa con una sola voce ma non penso che farà niente eccolo qua allora ha separato secondo lui lo spondo musicale da questa andiamo ad ascoltarlo mi metto le cuffie per capire se vi arriva cosa ha fatto magari mi ha rimosso qualcosa di interessante allora innanzitutto questo lo faccio silenzioso e alzo per vedere cos'è che ha separato ah allora praticamente ha tolto tutte le cose un po' di sfondo e anche un po' di voce ma tutte le cose di sfondo che vado a fare questo è molto molto utile andiamo a togliere il silenzioso andiamo a non togliere vediamo se rovina la voce questa persona che ha scritto l'articolo è molto probabile che non abbia le competenze per scrivere quel tipo di articolo ok non mi piace non è a questo quello che serve lo strumento però senza nessuna cosa ha fatto alcune rimozioni interessanti immaginate di avere più tracce audio questo può essere utile perché man mano che il sistema migliora potrà andare addirittura a togliere esattamente tutta una serie di rumori di altre voci andare a isolare gli strumenti utilissimo cancello questa roba metto il silenzioso sul destro col tasto destro non abbiamo altri strumenti di AI se non vado errato ma abbiamo un'altra cosa di AI che volevo mostrarvi tutte le altre cose di AI che sono nella base video strumenti AI abbiamo la chiave cromatica quindi il chroma key ma abbiamo la e-portrait ovvero quando siamo qui ci fa un vedete in automatico un un taglio di quello che è lo sfondo secondo lui abbiamo la possibilità di allargare sulle forme questo è molto interessante per alcune per alcuni oggetti ad esempio il ritaglio intelligente con la possibilità di andare a ritagliare nella modalità semplice con proprio la selezione vedete delle zone quindi andare a fare più e meno come si fa con tanti altri strumenti che abbiamo a disposizione qui abbiamo il più qui abbiamo il cancella nel caso in cui diciamo no questa qui no in effetti l'ho sbagliata possiamo fare lo zoom per andare col dettaglio a vedere dove sbaglio vedete andare a fare questo tipo di insomma di roba ok mettiamoci al 100% e abbiamo la modalità avanzata anche la modalità un po' più no il 50 no vabbè non importa l'inversione di quello che abbiamo selezionato possiamo spostare la clip possiamo scegliere la morbidezza del bordo abbiamo una modalità avanzata che ci consente di andare sulle singole clip da quel punto di vista elaborazione del tracciamento lo interrompiamo che in questo caso non mi serve il ritaglio intelligente lo togliamo il ritaglio intelligente il monitoraggio del movimento per fare il tracking degli oggetti questo è molto utile sono tutti strumenti che usano l'intelligenza artificiale secondo lui la stabilizzazione per cercare di rendere stabile il video e infine se è l'ultimo la correzione dell'obiettivo molto utile perché ci dice hai una GoPro 6 ci corregge alcuni obiettivi che sapete che sono un po' particolari e quindi ci dà la possibilità di selezionare addirittura facciamo la 7 quale tipo di view è e andare a vedere quanto tipo di livello di correzione dell'obiettivo ho questo è veramente davvero molto interessante non fa solo questo su con le AI c'è un'altra funzione molto molto utile che potete usare però è in fase di esportazione ve la mostro esporta miniatura con le AI mi genera guardate dal video dal locale posso caricare una serie di cose posso selezionare il fotogramma e qui me le sta generando secondo lui questa è quella migliore ok insomma posso andare a fare o se no da locale la posso la posso caricare non è male come tipologia di strumento per creare le cose con le AI alla fine va a fare anche l'evidenziazione automatica dei momenti migliori per andare a generare appunto i momenti salienti quando andiamo ad esportare un video lungo io credo che questa funziona non l'ho mai provata la posso andare a modificare anche con questo marcatore modifica indicatore con i nomi che posso fare per esempio momento importante importante selezionare così magari lo vedo penso che il sistema riconosca anche questi marcatori credo non l'ho mai testata in realtà ok finita la panoramica sull'intelligenza artificiale andiamo a vedere più nel dettaglio quali sono questi pannelli che secondo me quale cosa in più noi possiamo andare a usare che potrebbero essere veramente utili allora stock media ci serve semplicemente per le immagini o i video da questo punto di vista quindi è utilizzato soprattutto per video e foto da inserire per aumentare quella che è la percezione bella del nostro video abbiamo le foto vedete con le varie dimensioni o anche i video quindi stiamo facendo video di una tartaruga ad esempio ok risoluzione massima abbiamo la possibilità ah non è una tartaruga sembra una tartaruga da qui che bello cos'è un leone marino bellissimo ma ok scarico lo andiamo a vedere sempre in anteprima in questo caso abbiamo il 4k ma posso andare addirittura a cercare tra i partner quindi facciamo l'esempio che io voglio cercare google per vedere tutti i video che hanno a che fare con google guardate quante cose che ho da tutto i partner posso selezionare la risoluzione quindi posso dire no voglio solo quelli 1080 l'ordinamento mi mostri vabbè non importa e vado a prendere questa ad esempio non chiedere più ok mi scarica questa ed è per esempio una ricerca che io posso andare poi con il più a inserire qua dentro lo posso inserire anche come mentre parlo esce proprio nel momento in cui c'è un ok ho questo tipo di robe posso cercare qualsiasi tipologia sono tutte immagini gratuite che ovviamente filmora ci mette a disposizione tra tutti i partner e posso andare anche se vediamo guardate che bello sono anche delle immagini di questo tipo che possono aiutarci a rendere il video più interessante sono quelle con il green screen ad esempio con addirittura l'audio questo è molto interessante perché lo posso prendere lo posso inserire qua sopra una mia clip ve lo mostro come si usa questo stock media ok all'audio quindi vado qui ora vado a fare negli strumenti di AI togliamo gli mettiamo la chiave cromatica vedete lo strumento posso farlo comparire ad esempio qua e gli dico sulla parte audio di abbassarmi il volume soprattutto per quello che come si sta comportando google eccolo lì eccolo lì ok la stessa cosa posso fare con altri abbiamo altri subscribe abbiamo questo abbiamo tante altre robe che noi possiamo andare a utilizzare guardate questo ad esempio delle icone social già nei confronti ok sempre vado a fare video strumenti AI chiave cromatica seguitemi sui social ok ok sullo stock media quindi ho tutta una serie di cose che posso andare a trovare da usare per riempire e migliorare i miei video vi ricordo che ogni cosa può essere messa nei preferiti in modo poi da ritrovarcela possiamo con il tasto destro andare ad aggiungere un tag o tra i tag che abbiamo già creato o andare a creare dei nuovi tag per poi riuscire a trovare facilmente i nostri contenuti e che c'è oltre alla libreria dei partner dove posso cercare anche la libreria di Filmora con già tutta una serie di cose lo schermo verde la grafica animata alcune gratuite alcune a pagamento Filmora ha anche i video oltre che le immagini guardate questo ad esempio se voglio andare a fare dei video di questo tipo davvero Filmora è un ecosistema molto interessante lo vediamo da questo punto di vista la stessa cosa ce l'ha con l'audio nell'audio non ho solo la possibilità di generare la musica con l'intelligenza artificiale ma anche la possibilità di ad esempio avere tutte le varie musica ad esempio ha di tendenza guardiamo lo squash lo squash classico la transizione ok il campanello distorsioni ha di tutto poi ha la musica che noi possiamo andare invece a utilizzare i 100 successi guardate ha davvero tutto qui vlog quali sono le musiche per vlog andiamo a vedere che cosa ci carica ok alcune a pagamento alcune gratuite seleziono i preferiti se lo voglio inserire prima scarico poi faccio così e me la ritrovo in basso mi abbasso quello che è l'audio e avrò una sostanzialmente una musica di sottofondo non c'è proprio nell'articolo il processo che google ok quindi sull'audio ho questa tipologia di possibilità poi c'è itunes con la musica che io ho praticamente in giro nella mia diciamo nel mio computer per quanto riguarda invece i testi ho una serie di possibilità molto interessanti vi ricordo sempre la possibilità di aggiungerlo dalla timeline facilmente ho il testo rapido ho il testo rapido 3d il 3d avendo ecco qua perché una delle domande lo vediamo è in questo modo con la possibilità nella parte del testo quando lo seleziono di scrivere quello che voglio di avere il formato 3d che voglio ok e di avere tutta la trasformazione la scala quanto deve essere grande la posizione dove lo voglio facciamo questo che è bello bello insomma ok applichiamo questo e ha questo tipo di che tante persone si stanno togliamo il mio audio che mi sta rompendo le scatole facciamo silenzioso ok eccolo qua e ho il titolo da questo punto di vista rapido ma qui ho tutte le tipologie di titoli andiamo a togliere un po' di robe perché qui c'erano dei titoli veramente utili da andare a utilizzare al di là di quelli a pagamento che potete trovare per esempio guardiamo questo ed è molto interessante tutti questi inserimenti che noi possiamo fare ok mettiamo mettiamo questo aggiungiamolo alla timeline lo vediamo qua ognuno di questi vi ricordo che può essere personalizzato quindi qui c'è scritto radio nuova radio nuova radio ci piace così facciamo l'esempio ce l'abbiamo qui gli possiamo dire che lo vogliamo in giallo gli possiamo scegliere quelle che sono tutte le dimensioni i colori dove lo vogliamo cliccando due volte ho anche questa possibilità di spostare i singoli elementi se voglio fare sta cosa che ne so faccio così guarda che bello ok poi abbiamo gli opener le aperture che sono molto utili per quanto riguarda youtube per chi ha le aperture vuole fare le aperture andiamo a scaricarlo e inserirlo nella timeline eccolo qua eccola qui possiamo scrivere giorgio daverniti eccetera eccetera ma ne abbiamo tantissime di apertura a pagamento le abbiamo gratuite poi abbiamo il call out quindi la possibilità di mostrare tutta una serie di personalizzati tra colori e testo a questo scusate a pagamento ah belle ok guardate questa i puntini con tutte le cose da avere con i contenuti molto utili ce ne sono veramente tante che noi possiamo andare a utilizzare guardate quest'altra oppure i titoli di call out che cosa mi serve guardate per questo filmore è veramente pazzesco con le percentuali e io posso ovviamente andare a modificare il testo o addirittura no aspetta il 60 non lo voglio toglimi questo 60 che non mi piace nel testo da questo punto di vista toglimi ste robe e posso entrare in modifica avanzata per andare a modificare essenzialmente quello che è poi la nostra che posso addirittura salvare il preset ritrovarmelo poi le nostre impostazioni quindi ho davvero di tutto con addirittura poi le personalizzazioni sulle tematiche perché per quanto riguarda i testi ci sono poi quelle sull'education guardate che ce ne sono alcuni veramente molto molto belli già impostati bisogna solo farsi un giro su filmora qui o sul sito filmora dove si trovano magari più facilmente ed è più chiaro questo è il fine il finale il viaggio guardate questo di viaggio se voi dovete raccontare che avete fatto un viaggio carino no? avete questo tipo di possibilità con tutte poi le altre cose che a tema che potete incollare nel video non c'è solo la singola clip da avere stili di vita è pieno guardate sul business ok ci carica tutto il materiale da questo punto di vista abbiamo tutti gli stili che poi ovviamente sono guardate questo giallo che ha tutti gli altri gialli quindi la possibilità davvero di assisterci in quella che è la creazione di un video non solo col testo ma con tutto il resto che filmora ha a disposizione passiamo alle transizioni io ve ne faccio vedere qualcuna ok che cosa significa la transizione tra una clip e l'altra ora la taglio facciamo una transizione classica abbiamo quelle base quelle base abbiamo il dissolvi la transizione può essere applicata o così tra le due clip che ora non vediamo niente perché non stiamo vedendo niente perché è prefissata prima ah già perché è è la stessa clip scusate giustamente lasciate che prendo un'immagine mettiamo l'immagine qua spostiamo la transizione o allunghiamola quello che è eccola passa da una all'altra lo vediamo decidiamo quanto deve essere fatta tutto quello che vogliamo lo possiamo fare noi la transizione può essere applicata o sulle clip o può essere o sulla singola o tra due in modo che ci sia questo effetto che praticamente dissolvono tutte e due vanno in dissolvenza tutte e due e queste sono quelle classiche guardate il coinvolgimento lento ad esempio ok queste sono quelle base poi abbiamo le dissolvenze complesse gli zoom che tipo di zoom volete i replace ovvero che una clip spinge un'altra verso l'uscita guardate bella questa ma davvero sono tantissime lo stile di vita più richieste più richieste è bellissimo sono quelle più utilizzate ad esempio c'erano i pacchetti anche la curvatura cos'è la curvatura aspettate che la curvatura la mettiamo alla fine di questa perché una transizione può finire anche ah ok questo tipo di sono veramente veramente bellissime ce ne sono tantissime di branding potete fare tutto quello che che volete quindi questa per esempio il pacchetto bisogna al pagamento vabbè non ci interessa o no vediamo cosa fa ah bella ci fa con tutte le varie robe insomma di robe ne potete fare tantissime tra le quali anche le transazioni audio per passare da una clip all'altra mentre state parlando arriviamo invece a quelli che sono gli effetti gli effetti che voi potete usare nella singola clip perché anche qui ne abbiamo tante di tante tipologie abbiamo quelli consigliati che sono di tendenza ad esempio sono sempre quelli più usati gli effetti video gli effetti sul singolo video sulla singola clip che voi potete andare a creare anche con l'intelligenza artificiale vedete tutte le varie robe che si possono andare a fare vediamo se ne troviamo una fatta bene ok su una clip mettiamogli questa anche se a pagamento dovrebbe farmela usare lo stesso vedete mi ha clonato oppure il contorno pastello me la fa usare e poi con l'esportazione mi dice che devo pagarla guardate si possono fare delle robe con filmora in modo molto molto facile davvero in pochi pochi secondi questa cosa fa mi taglia il neon vediamo il neon posso applicare anche due insieme la cosa bianca col neon guardate ok cancelliamole tutte poi abbiamo tutta la parte di sticker molto interessante per alcune tipologie di video che aggiunge gli sticker alle varie facce vediamo questo qua delle corna ok il glitch che sono molto usati in realtà questo tipo di effetto sforfallia sfocatura le aperture molto bello le aperture i pixel enormi andiamo a vederne una sui pixel enormi che cosa che che ci fa come effetto guardate ci fa questo roba qui molto interessante in realtà lo vediamo dallo skyline ovviamente passando col mouse abbiamo la possibilità di vedere quale effetto in preview non c'è bisogno che li scarichiamo tutti però a me piaceva farveli vedere guardate questi sono veramente molto belli al di là ora applicati su di me la distorsione nei filtri anche quelli che sono gli effetti distorsivi e siamo solo nella parte che distorce il video siamo solo nella parte degli effetti video perché poi abbiamo i veri e propri filtri ovvero andiamo sui filtri nature vediamo che cos'è che ci propone per esempio il loot mi ha applicato una loot preimpostata è davvero pazzesca cioè filmora su ste robe è davvero pazzesca una volta che avete imparato a utilizzarlo filtri di ritratto mi applica un filtro al video di ritratto cibo quelli specifici cioè a tutti i pacchetti di loot impostati l'overlay quindi la possibilità per esempio di una perdita di luce su di me guardate è veramente pazzesco riflessi tv statica che cos'è tv statica non c'è risultati come no ci sono lo schizzo non c'è risultati davvero in categoria vuota ah no ecco le tv che hanno tutti i glitch per esempio molto interessante poi ci sono gli effetti audio con tutta la possibilità di andare a mettere i filtri vocali ad esempio vediamo se vi vado a riattivare l'audio ok voce di bambino applichiamo la voce di bambino a me per scrivere quel tipo sulla clip ho applicato di articolo perché c'è un tipo che per scrivere quel tipo di articolo torniamo indietro articolo al telefono quel tipo di articolo bellissimo raga è davvero pazzesca la possibilità che abbiamo con filmora al telefono con l'atrio nell'atrio ah no lo sostituirà ok va bene di articolo perché credibile voce femminile com'è la mia voce femminile scrivere quel tipo di articolo perché becca radio scrivere quel tipo di articolo no è davvero pazzesca le cose che si possono andare a realizzare in montaggio robot AI per scrivere quel tipo di articolo bellissimo dopodiché abbiamo Boris Effect che sono tutta una serie di luci particelle e roba varia che alcuni vanno scaricati eccetera eccetera proviamo questo per vedere che cosa fa ah no è troppo lungo chiudi 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 troppo lungo però non mi mostra poi la differenza tra l'uno e l'altro o devo scaricarli tutti sono i Boris Effect che forse devo scaricarli tutti per quello vabbè li faccio scaricare intanto vediamo che cosa fa così ve lo mostro che mi chiede la password me li sta installando la mia password è sì quella tanto che cosa ve ne fate pure che ve l'ho detta ok mi dice che è installato correttamente me lo fa riavviare e riavviamo eccoli qua andiamo a vedere su una clip l'effetto che fa effetti Boris Effect lui ah me l'ha scaricati tutti ce li ho tutti qua ok mi ha fatto scaricare robe che sono tutte a pagamento 800 mega riavvio di roba non importa non è importante voglio vedere che qual è l'effetto che fa indietro non importa eccolo qua ah bellissime ha tutti gli effetti ok ho capito bellissimo non chiedere più perché mi sono rotto le scatole ok veramente belle ok è valsa la pena no non per me però per sapere tutto quello che è mosaico di piastrelle la seo industry bellissimo ah ne fa certe spettacolari scusate devo studiarle tutte una no certo che per chi fa montaggi diversi dai miei molto più interessanti sta roba è pazzesca questo che ha fatto nessun affetto ah per gli occhi arca miseria ok ok va bene passiamo ora alla parte degli adesivi andando a cancellare tutto quello che ho fatto finora come sempre così abbiamo tutto pulito gli adesivi sono anche molto interessanti perché ci consentono di avere un vantaggio di avere dentro soprattutto ok togliamo l'audio perché di nuovo scollega e silenzioso vedete cosa succede sono degli adesivi molto molto utili dove possiamo andare a fare tutto nel senso magari dire metti mi piace e hai lo sticker preferito ma ce l'ha per i compleanni per i viaggi quindi immaginate di aver usato prima quello per i viaggi ok italian landmark siamo sempre ovunque noi ok vedete ha tutta la parte su tutte le cose italiane anche questo eccolo qua filmora con le lettere bello veramente bello le lettere perché potremmo andare a scrivere una cosa ad esempio ricordiamoci che possiamo usarle così e quindi può uscire Giorgio vediamo sì certo va spostato uno va spostato però molto bello andiamo a vedere con le lettere bellissimo veramente bello lettere andiamo a vedere la O tanto il mio nome è facile ok poi gli mettiamo la R guardiamo cosa succede forse dovrei farle posso selezionare gli elementi e rimpicciolire tutti insieme questa è una chicca chi si sta guardando tutto il tutorial spero che abbia imparato anche le varie robe di UX nell'uso questo le rimpicciolisco così poi posso prenderle vedete che me le seleziona o posso dirgli solo queste tre e fare aspettate che mi metto qua così so cosa ho selezionato no non esce vabbè faccio copia incolla gliele incollo qui questa dovrebbe essere una cosa più veloce ma mi sa che non è stata proprio veloce non importa oh quasi quasi me la salvo dove è finita la clip ecco vediamo vediamo l'effetto eh guarda che bello veramente belli gli adesivi mettiamoci qua ma ho gli adesivi specifici iscriviti al canale quindi ho la possibilità di andare a personalizzare avere tutti i miei pacchetti con il 3d vedete questo parte in 3d addirittura ok ho i meme bellissimo con la possibilità di cercare tutte queste cose possono essere cercate cuore e mi mostra tutti gli adesivi col cuore non ho bisogno effettivamente di andare ovunque a fare questa roba tutti 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 gratuito ho i filtraggi sempre tra i gratuiti a pagamento ok adesivi ritorniamo alle tendenze perché poi ci sono le emoji con tutte le emoji in sovraimpressione togliamo tutto questo lavoro che ho fatto finora abbiamo i social media e poi abbiamo quelle specifiche come sempre di settore sport matrimoni educazione sui social media c'è tutto c'è anche tiktok questo è tiktok se non sbaglio sì tiktok eventi aziendali con tutti gli adesivi sugli eventi aziendali molto interessante perché c'è un set di icone e di cose che noi possiamo utilizzare per rendere i nostri video più facili sono animate è veramente bello questo è un gioco di giocavo da piccolo sempre con Cosmano pensavo che faceva proprio la cosa non la fa va bene ricordiamoci sempre che da qui possiamo vedere un'anteprima ok passiamo ora all'ultima parte i modelli poi andiamo all'esportazione i modelli sono interessanti perché come modello al di là dei modelli video che noi abbiamo e che quindi possiamo andare a mettere nei preferiti scaricare come sempre abbiamo i filtraggi ok questo addirittura c'ha l'audio con la possibilità di caricare il logo queste cose qua sono tutte mantiene impostazione del progetto assolutamente sì sono tutte personalizzate perché una volta che clicco ho la possibilità di andare a personalizzare quello che è il mio ok andiamo a fare il doppio clic quindi 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 eccolo qua non sono presenti clic sostitutibili puoi modificare il testo da stock media o da testo logo e quindi lo scriviamo non lo so Giorgio perché pare che sia uno quindi ok quindi tutti questi sono modificabili anche a volte con le clip a volte no quindi proviamo questo che forse è quello modificabile con la clip così vi mostro che cosa che si può andare a fare sì grazie lo mettiamo qua va bene mi dice modifica o espandi allora modifica e ho le clip quindi siccome ho queste clip io posso andare a dirgli questa clip che dura 4 secondi invece me ne metti un'altra mi metti che so questa questa immagine avanti va bene quindi mi ricompare qua poi cioè ho tutta una serie di cose che posso fare sulle varie clip ma la cosa più interessante in assoluto secondo il mio punto di vista non è tanto queste che andiamo a vedere che cose che ci fa le animazioni per esempio questo sul vlog è bella se uno fa un vlog di viaggi può utilizzare questo tipo di modello perché perché io vado qua ho la clip mi cambio con le mie clip ovviamente e mi rimane tutto il testo che posso sempre modificare da testo tourism camping summer ok posso fare un vlog con le mie parole ok e con i miei con i miei video ma la cosa più bella è lo schermo diviso lo schermo diviso è una delle cose secondo me a me quando ho visto filmare la prima volta è uno dei motivi perché l'avevo comprato che volevo fare delle robe con lo schermo diviso ha miliardi di impostazioni di schermi divisi ma miliardi e questi sono i basic perché poi ha tutti gli schermi divisi in base a dei contenuti quindi in questo caso ora ve ne mostro uno che è bellissimo che è quello del macOS ok col sistema operativo vedete che io posso andare a mettere dei video dentro tra un po' vi mostro come si fa però volevo farvi vedere tutto quello che abbiamo abbiamo l'end screen abbiamo quelli da vlog e abbiamo quelli di festival lui considera festival se io qui faccio questa roba posso fare le interviste doppie per esempio quando io clicco qua ho la possibilità di spostare anche il video dentro che c'è dentro io vado su a fare per entrare dentro la clip e modificarlo allora vediamo se non ricordo male da qui video base no non mi ricordo dove modifica avanzata eccolo qua modifica avanzata vado a sostituire la clip in questo caso in questo caso ho questa la vado a sostituire da dove da qui da dove io ho già i miei file multimediali quindi andiamo a prendere per esempio questo faccio questa la metto qua ed ho lui poi prendo questa e la metto qua e ho lui sono sempre andate a fare una diretta sono quelle che conosco è troppo bella questa roba e vedete che mi compare qua lo sapevi che le persone bellissimo posso spostarla posso dirgli di farmi uno zoom ok posso regolare tutti i filtri ma io le clip le posso preparare prima cioè non ho bisogno posso tagliarle prima capito che dico lo sapevi che è bellissima questa roba immaginatela con lo schermo diviso ho la possibilità di parlare e mostrare altre clip ad esempio ho più persone io per questo lo utilizzerei e mi piace veramente tanto per andare a modificarlo o andate col destro modifica avanzata oppure quando avete il doppio click qui avete esperti esperti vi riporta qua dove potete appunto cambiare sostituire direttamente trascinando le clip che voi avete dentro gli spazi ecco qua le persone che avete visto anche l'animazione di entrata le persone che hanno rovinato internet ok questo è un modo molto interessante per avere lo schermo diviso secondo me poi tra le altre cose io l'avevo usato per fare delle interviste doppie per fare tutta una serie di robe immaginate di fare un'intervista a sei persone e quindi avere per esempio lo schermo a sei con tutta l'animazione di entrata secondo me è molto bello potete selezionare anche i colori del bordo se non vi piace il bianco potete mettere i vostri potete fare un sacco di cose ma non è finita qui non è finita qui voi non lo sapete oppure lo sapete perché avete già visto un altro un altro dei miei video pam 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 con filmora potete registrare lo schermo la registrazione dello schermo è molto interessante come si fa in file multimediali oltre all'immagine AI quindi la creazione dell'immagine con l'intelligenza artificiale abbiamo registra clicchiamo su registra possiamo registrare dalla webcam possiamo registrare una voce fuori campo lo schermo del pc andiamo su schermo del pc lui si chiude eccolo qua che cos'è che accade ora mi tolgo mi metto come rettangolo allora accade questa cosa ora uso la fotocamera HD perché ovviamente la fotocamera mia è impegnata e non posso usarla seleziono quello che è l'audio seleziono quindi il microfono posso dirgli che cosa andare a registrare schermo intero personalizzato ho una finestra seleziono le impostazioni di larghezza della finestra che voi state vedendo eccola lì vedete che è un po' più chiaro no? e poi su impostazioni avanzate posso andare a selezionare gli fps che tipo di qualità se voglio il controllo la rovescia di quanto nascondi i movimenti del mouse oppure mostra il mouse e quando fa click mostralo in questo caso rosso i tasti di scelta rapida e tante altre cose ok ora faccio registra vedete 3 o posso partire direttamente lui ha registrato in questo caso no? il mouse non riesco a fargli fare pensavo che mostrasse qualcosa di particolare non lo mostro non importa la cosa interessante è che lui ora sta andando a registrare sia la webcam sia quello che è il mio schermo quindi posso ora interrompere lui interrompe che cos'è che ha fatto mi tolgo di mezzo questo se no vi do fastidio cancello tutta questa parte qua a meno che non me l'ha aggiunta a qualche parte vediamo no? ok me l'ha creato qui quando mi ha creato qui questa roba mi ha creato già tutto ora cancelliamo elimino le tracce mi ha creato già tutto con tre cose separate l'audio la mia faccia quindi la webcam che posso andare a rimpicciolire a fare quello che voglio e lo schermo che posso andare a fare tutto quello che voglio quindi vado a fare questo mi metto questo no? la cosa che faccio solitamente che si può fare con OBS lo faccio in automatico qui ad esempio se non mi piace che sono quadrato rettangolare quello che è vado ad applicare una maschera gli applico una maschera a cerchio faccio in modo perché posso applicare appunto le maschere che la lunghezza sia uguale alla larghezza me lo incollo qua selezionando questo ho il fotogramma ma non mi serve vedete ora è diventato un cerchio lo allargo questo cerchio da qui posso fare quello che voglio ok ci sono ora è diventato un cerchio dopodiché se io voglio aggiungere il cerchietto come per esempio ve lo mostro vediamo se ve lo mostro qua il cerchietto bianco su OBS lo faccio in automatico io ce l'ho tra lo spazio in cloud anzi no non l'ho messo dallo spazio in cloud ok lo vado a caricare nello spazio in cloud carico un file non è questo è questo è un cerchio proprio bianco in png me lo apro eccolo qui me lo scarico così ce l'ho aggiunto alla cartella dei trasferimenti lo metto qua lo allungo lo vediamo qui doppio clic per selezionarlo ok e me lo metto davanti alla mia clip poi con la tastiera posso andare in comprecisione eccolo qua lo metto tutto schermo per vedere se ho fatto bene pare proprio di sì ok quindi la registrazione dello schermo con Filmora è veramente fantastica perché tutte e tre le tracce me le separa e io posso fare quello che voglio immediatamente senza alcun tipo di problema direttamente con Filmora è quello che userò per registrare il tutorial su OBS perché ora sto usando OBS per registrare e ovviamente non posso penso che userò proprio questo per fare il tutorial su OBS ci manca una sola cosa che è l'esportazione allora andiamo a chiudere a uscire dalla registrazione no 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 aspetta aspetta nulla Filmora non voglio chiudere voglio che mi togli la registrazione perché non la voglio ok l'ho tolta ho tolta la registrazione ora c'è l'esportazione andiamo in fase di esportazione al di là della miniatura al di là di usare tutta una serie di cose è molto interessante sapere come esportare qui avete tutta una serie di cose sul dispositivo su YouTube io uso solo semplicemente il locale gli dico sul desktop uso l'MP4 come formato poi ho tutta una serie di impostazioni per andare a fare il diciamo con precisione quelle che sono le impostazioni del progetto o usate massima o usate migliore io uso migliore che per me va bene la risoluzione è 1920x1080 60 fps l'H264 questo è per YouTube e la frequenza di bit sono gli 8000 io uso sempre gli 8000 da questo punto di vista l'audio avete la possibilità di selezionare però questi sono quelli che uso io secondo me funzionano abbastanza bene lascio qua invariato quindi quelle che sono le singole impostazioni non faccio l'evidenzazione automatica da questo punto di vista e non mi interessa perché potrei fare un video direttamente per TikTok shorts e robe varie non faccio il backup sul cloud e abilito faccio solo questo l'esportazione a seconda della tipologia del video non è per forza velocissima anzi dipende quanto duro dura tutta come video diciamo e poi c'è tutto alla fine se voglio spegnere il computer non fare niente lasciare un avviso sonoro lasciamo un avviso sonoro lasciamo un avviso sonoro ok in questo caso ho concluso con l'esportazione me la ritrovo nella cartella che ho scelto ma posso fare cartella aperta per ritrovarmelo facilmente o insomma posso fare un'altra serie di cose un'altra roba molto interessante sull'esportazione che tanti non sanno è che io posso andare vabbè ad esportare in formato mp3 per fare il podcast ma posso addirittura fare le gif quindi posso esportare bisogna solo stare attenti a quando vado a fare il fotogramma non avere troppi fotogrammi se no mi esporta 200.000 immagini ma posso anche esportare le gif animate bene finito il mega tutorial su filmora io spero che vi sia piaciuto spero che vi sia stato d'aiuto per capire un po' tutto il mondo di filmora ho dedicato lo spazio all'inizio dei video all'intelligenza artificiale perché mi sembrava alle clip all'intelligenza artificiale mi sembravano molto interessanti noi ci vediamo prossimamente con altri video altri tutorial sicuramente farò un tutorial su OBS sicuramente farò un tutorial su Google Trends perché vi ricordo qua non parliamo solo di questi argomenti ma parliamo anche di marketing mi raccomando iscrivetevi al canale se vi piacciono questi video perché ne arriveranno altri e non dimenticare di seguirmi lo puoi fare su Telegram ti metto il link in descrizione e anche se vuoi sulla mia newsletter giorgiodaverniti.substack.com dove metto tutto quello che pubblico è un po' Grazie a tutti.